Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Mascali hanno arrestato Ignazio Crimi, 41enne del posto, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania. L'uomo dovrà espiare la pena di un anno, tre mesi e due giorni di reclusione perché è ritenuto colpevole di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e minaccia, reati commessi a Mascali nel 2017. L'arrestato, una volta espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria.